A Teramo la maggioranza di Brucchi, nonostante i rimpastini di primavera, continua ad essere in bilico. Il Brucchi Ter non sembra sortire effetti e se da una parte i gattiani continuano a battere cassa e fare sempre più dago della bilancia, i nuovi ingressi non stanno reggendo l'urto. L'associazione Nuove Energie, nata a marzo e che fa riferimento all'ex assessore comunale Rudy Di Stefano e che vede la presenza anche degli altri tre ex assessori, Piero Romanelli, Francesca Lugantoni e Giorgio Di Giovan Giacomo, torna all'attacco del primo cittadino. Dal nostro ultimo comunicato, si legge in una nota in cui chiedevamo al sindaco di dimostrare con i numeri la maggioranza, la situazione politico-amministrativa del comune di Teramo è degenerata ulteriormente. Purtroppo dobbiamo registrare che nei fatti il comune è commissariato. L'imminente cambio di passo annunciato è stato compiuto, ma all'indietro, e non contenti di aver paralizzato l'attività amministrativa per mesi a causa di inutili tavoli politici, oggi ci troviamo ancora nella medesima situazione di stallo, dalla quale saremmo dovuti uscire in tempi non biblici. Secondo il commissario Brucchi, ora il problema della città sono i consiglieri delegati e pare non si possa affrontare nessun argomento se prima non viene trovata la modalità attraverso cui agitare la legge e quindi creare una figura non prevista dal testo unico degli enti locali. La nota poi vira inevitabilmente sulle dichiarazioni alla stampa del consigliere Dodo Di Sabatino. Negli ultimi giorni si è tornati nuovamente a convocare gli amati tavoli politici ad amminacciare crisi di maggioranza per cosa? Per utilizzare anche la presidenza della Ruzzorete ad uso e consumo politico. Forlini, continuo la nota, è il miglior presidente che la Ruzzorete abbia mai avuto ed è inaccettabile che si metta in discussione la sua carica solo per via di gruppi politici rimasti senza poltrone. Nuove Energie spera davvero che questa amministrazione si ravveda ed inizi a lavorare sulle questioni di interesse dei cittadini altrimenti sarebbe meglio che tornasse a casa lasciando spazio a chi vuole davvero bene alla città di Teramo.